L'episodio dell'incendio all'edicola di due giorni fa è solo l'ultimo purtroppo di una serie di episodi che riguardano la città di Chiedi e che ripropongono il tema della sicurezza. Tra l'altro lei anche come rappresentante del Lanci Nazionale ha diramato un comunicato proprio su questo argomento. Sì, è un tema che riguarda le città, riguarda le città soprattutto oggi che il governo ci affida a questo compito in più che è quello di essere parte integrante della sicurezza urbana. È un problema che riguarda Chiedi ma non è il problema di Chiedi, questo ci tengo a dirlo, la città non può essere definita e non voglio si definisca una città violenta. Abbiamo degli episodi che purtroppo in questa società degradata iniziano a farsi avvertire anche nel nostro comune e nel nostro territorio. È chiaro che vanno immediatamente combattuti, vanno immediatamente messi in un angolo e vanno combattuti con fermezza e con determinazione. Per questo ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica al quale io non parteciperò solo per dovere d'ufficio ma con la precisa volontà di collaborare attraverso anche la Polizia Locale a far sì che ci siano più elementi che circondano questa degenerazione anche della comunità teatina. Sul tema della sicurezza è chiaro che noi tutti dobbiamo farci parte di gente ma soprattutto io chiedo, ma questo andrebbe chiesto al Governo Nazionale, che le forze dell'Ordine non vengono lasciate da sole. Questa mattina ho incontrato il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso per discutere dei problemi del territorio. Cosa vi siete detti? Ci sono i problemi o meglio ci sono le questioni legate al Masterplan che io vorrei divenisse realtà nel nostro territorio perché vuol dire fare investimenti, vuol dire creare condizioni dall'ambiente alle infrastrutture perché l'Abruzzo sia migliore. Ovviamente la mia città è fortemente coinvolta ed è per questo che ho voluto parlarne con lui in vista della riunione di lunedì pomeriggio. C'è il tema forte dei danni da maltempo per i quali la Regione è comunque anello fondamentale tra Governo e territorio perché arrivino i soldi nei comuni. C'è il tema di alcune opere pubbliche importanti che devono essere completate e che hanno bisogno dell'aiuto della Regione. Ecco, su tutto questo io credo che una intesa istituzionale e interistituzionale sia fondamentale. Grazie a tutti!